Da un lato la gratitudine delle donne che gratuitamente hanno avuto la possibilità di sottoporsi ad uno screening senologico, dall'altra la soddisfazione di associazioni specialisti per la riuscita della mattinata di prevenzione dedicata proprio alle donne che vogliono effettuare l'ecografia al sino. Screening organizzato da Sannio Donna ODV con il padrocinio del Comune di Benevento, la partecipazione della consulta delle donne nel poliambulatorio mobile della Croce Rossa italiana. In campo un senologo che da decenni opera nel Sannio, il dottore Pasquale Zagarise. La prevenzione è l'arma sicura, certa, per le malattie, in particolare per i tumori al seno. Scoprire una neoplasia, fare diagnosi precoce significa anche salvare la vita di quella donna. La pandemia ha influito in maniera negativa. Io credo che adesso si sta riprendendo, quindi le attività ambulatoriali sono negli ospedali pubblici, quindi funzionano. Devo dire anche l'attività di screening dell'ASL. Grazie alle associazioni le donne sempre più hanno la consapevolezza dell'importanza della prevenzione. Noi cerchiamo di stimolare tutte quelle che in fondo poi non rispondono alla chiamata, perché c'è una grandissima differenza tra le lettere inviate e le donne che rispondono. È importantissimo controllarsi perché veramente, soprattutto in questo caso di tumore, la prevenzione ti salva la vita.